Covid-19. In Sicilia 603 nuovi positivi, 19 decessi, 1.454 guariti. A Siracusa 51 casi. Nella regione scende il contagio. Diminuiscono i malati e ricoverati, registrando 603 nuovi positivi su 20.207 tamponi processati, con una incidenza di quasi il 3% in leggero calo rispetto a ieri. La rete dei contagi evidenzia che tra le province c'è Catania 183, Palermo 179, Agrigento 67, Messina 65, Siracusa 51, Trapani 31, Caltanissetta 17, Ragusa 6 e Enna 4. I decessi sono stati 19 e portano il totale a 5.633. Il numero degli attuali positivi è di 19.165, con una diminuzione di 870 casi. I guariti oggi sono 1.454. Nelle strutture sanitarie isolane i ricoverati sono 1.700, 37 e meno rispetto a ieri. Quelli nelle terapie intensive 124, 1 e meno rispetto a ieri. Sono 8.085 nuovi casi e 201 i morti. Questi i dati nazionali processati, 278.026 tamponi, con tasso di positività pari al 2,8%. Scendono terapie intensive e ricoveri ordinari, meno 672. In Campania 1.110 contagi, Toscana 651, Emilia Romagna 618, Veneto 468. Questi i dati delle regioni. bollettino sulla epidemia da coronavirus in Italia nel giorno prima del nuovo cambio di colore delle regioni. I dati del Ministero della Salute segnalano un lieve aumento dei contagi rispetto alla giornata di ieri, nonostante il minor numero di tamponi processati. Si allenta la pressione ospedaliera sia nelle terapie intensive sia negli altri reparti che diminuiscono le vittime. Tutta l'Italia da lunedì potrebbe essere in zona gialla, ma come spiegato dal Presidente del Consiglio Draghi, la linea del Governo resta l'approccio graduale e allentare le restrizioni a seconda dell'andamento epidemiologico e della campagna vaccinale. Intanto il report della Fondazione Gimbe già anticipa che continua il calo di nuovi casi di Covid, meno 19% e dei decessi, meno 15,4% anche nella settimana 5-11 maggio. Si allenta ancora la pressione sugli ospedali. In 35 giorni, meno 49,1% ricoveri con sintomi e meno 45,1% le terapie intensive.